Miau 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 Video di gatti, il web ne è pieno e piacciono tantissimo al punto da essere spesso oggetto di presa in giro da parte di chi non condivide questa passione Eppure il nostro paese di questi felini ne conta un numero incredibile, 10 milioni secondo lega ambiente Anche se quelli ufficialmente registrati sono appena 620.000, praticamente uno ogni 16 44 gatti, fila per 6, corretto di 2 In Russia un paesino che si affaccia sul Mar Baltico ha addirittura indetto un bando pubblico per assumere un addetto che si prenda cura dei 70 felini che sono lì Ad aggiudicarsi il posto questa donna gattara per passione e per professione Da noi succede non dirato che siano i vigili del fuoco a occuparsene Quando i gatti si trovano in pericolo come è accaduto lo scorso anno durante un incendio Per fortuna sembra che i traumi li vivano in maniera piuttosto tranquilla Come testimoniano queste immagini provenienti da Taiwan durante una scossa di terremoto Amati al punto da essere inseriti a New York in un corso di yoga a base di stretching e coccole E come per tutti gli argomenti che tirano la politica se ne interessa Finendo è proprio il caso di dirlo per metterci lo zampino Oggi è la trentesima volta che in Italia si celebra la giornata del gatto Addio a superstizioni e maltrattamenti Dai tempi antichi i gatti nel bene e nel male sono sempre stati protagonisti